Trieste, da sempre città cosmopolita, ha stimolato lo sviluppo di diverse discipline sportive, tra cui il canottaggio. Da qui lo spunto di questo libro in cui Franco Stener illustra la storia del canottaggio nell'Adriatico orientale, un capitolo importante riguarda la tradizione in Istria, Fiume ed Almazia. A Isola, ad esempio, nel 1925, venne fondata la società nautica Pullino. L'Isola con la Pullino nel 1928 è la prima olimpiade istriana e medaglia d'oro subito, insomma, più altri quattro titoli europei, però questi ragazzi di 18 anni, di media, che vanno lì e fanno un po' la barba a tutti quanti, insomma, hanno fatto la storia del canottaggio istriano. A Trieste, il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco è stato costituito nel 1962, prendendo lo spunto proprio dalla Pullino. Ho remato con i figli di quei primi forti canottieri, parlo di Ennio Fermo, parlo di Franco D'Agostini, parlo di tanti altri, che appunto hanno tramandato questa passione anche ai propri figli, che negli anni 80 e 90 hanno portato alto il loro nome. Uno su tutti, Luca Bascotto. Franco De Grassi, esule di Isola, si è prodigato a portare avanti la tradizione della Pullino anche dopo l'esodo. I rapporti con i canottieri isolani, ha detto alla presentazione del libro, sono sempre stati molto buoni. Dobbiamo fare in maniera tale che questa sia una regione unica, una regione che cresca. Oggi non c'è più nessun confine in Istria e quindi questo è un discorso molto importante. L'Istria continua oggi ad avere quello che aveva perso per un po' di tempo, cioè una continuità territoriale. Guardiamo al futuro. Dal 64 gli equipaggi triestini hanno ripreso con le regate a isola i contatti. I contatti sono, ripeto, molto forti e proiettati in un futuro di reciproca stima.